Ben tornati su Ciper TV, oggi è il 28 novembre 2018 e siamo prontissimi per un nuovo award, quello di oggi si chiama Glenn. Consiste in 30 clean and jerk, un meglio di corsa, quindi 1600 metri, 10 rope climb, un altro meglio di corsa e 100 burpees. Pesi e carichi sulla grafica qui di fianco e noi ci sentiamo domani. Mi raccomando, seguite le nostre storie su Instagram.